siamo stati bravi diciamo a rimanere in partita non farci abbattere al secondo gol e ribattere la partita peccato va nel finale ci siamo abbassati un po troppo dopo il gol del vantaggio e poi non va alla fine tu prendi sempre il gol ma ripeto la compattezza nel disunirsi dopo il doppio svantaggio la squadra che avevamo davanti sono i primi in classifica non ho solo vinto quindi siamo stati bravi a rimanere in campo con la testa sicuramente dobbiamo migliorare comunque nella fase di gioco offensiva al primo tempo ci è mancata di quella stesso di sempre noi giochiamo partita pensiamo partita dopo partita a vincere tutte abbiamo un obiettivo ben preciso quest'anno e siamo convinti di arrivare fino in fondo e di lottare fino in fondo per conseguirlo